Innocenzi, perché non rispondi alle domande dei cittadini? Ma quando? No, perché non rispondi alle domande? Cioè, i cittadini vogliono sapere. Cioè, perché sta andando via con l'auto blu? Invece, sai, cittadini, eh? Sai, cittadini, quali sono i problemi dei cittadini? Mi inquadra anche l'autista dell'auto blu, scusa. È una giornata lunga per tutti, eh? Vedo cacca, attento, andato qua, caffè. Cioè, perché non rispondi? Voi della cassa dei giornalisti. Ecco, parliamone, io sono contro l'ordine. Contro l'ordine. Capito, Jacopino? Chi è Jacopino? Presidente dell'ordine. Certo, certo, talk, talk, community. Chi è Jacopino? Eh, no, no, però, state... Vedi, vedi, cioè, non volete mai rispondere alla fine. Non volete mai rispondere. Siete tutti uguali. Siete giornalista del giornalista. Siete tutti uguali, ecco, cioè. Io sono l'operaio della... Sfruttato, sfruttato da Giulio Innocenzi, diciamolo. Eh, ma, certo, certo. Sfruttato e manco pagato perché non sono io che do i soldi. Eh, ecco, state andando via senza rispondere. Sempre così, sempre senza rispondere. Scusate, sono questi brutti bruma romani. Fermi sulle strisce, eh. Sfruttato da Giulio Innocenzi. Eh, l'Innocenzi non risponde, va via. Così, sull'auto blu. Tinta di bianco. Scriviti al nostro canale.